Peppa e George stanno giocando a nascondino. Ora tocca a George nascondersi. Lui deve trovare in fretta un nascondiglio prima che Peppa finisca di contare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, cazzo. George è riuscito a trovare un nascondiglio giusto in tempo. Dieci! Ho finito di contare, vengo a cercarti! Peppa deve scoprire dove si nasconde George! Tana per George! Peppa ha trovato George! Che peccato! Ti ho trovato subito senza nessuna fatica! Ora tocca a Peppa nascondersi! Uno... Tre! Ti aiuto io a contare, George! Uno... Due... Tre... Quattro... Cinque... Sette... Sette... Otto... Nove... Dieci! Va bene, George! Adesso puoi aprire gli occhi! George deve scoprire dove si nasconde Peppa! Peppa non è nascosta sotto il tavolo! George! George, perché non provi a guardare al piano di sopra? Peppa non è sotto il letto! Peppa non è dietro la tenda! Ecco ancora quello strano rumore! Cosa può essere? George ha scoperto dove si nascondeva Peppa! Peppa Pig 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 Grazie.